Avvocato Barbieri, lei assiste due delle persone arrestate nell'ambito dell'operazione Fenice. Questa mattina, primi interrogatori di garanzia nel carcere di Borgata Aurelia. Come sono andati? Sono andati che il mio assistito si avvalso della facoltà di non rispondere. Non abbiamo avuto modo di acquisire la copia integrale di tutti gli atti. Quindi in questa prima fase abbiamo inteso non rilasciare alcun tipo di dichiarazione. Questo vale anche per le altre persone arrestate? Credo di sì. Adesso come si svolgeranno i successivi interrogatori? Adesso abbiamo dieci giorni di tempo dall'applicazione della misura della detenzione in carcere per inoltrare istanza a tribuna del riesame. Per quanto riguarda la posizione del mio assistito sicuramente faremo istanza a tribuna del riesame per far valutare la posizione cautelare dall'organo superiore. Quindi l'interrogatorio di garanzia è differente dall'udienza di convalida? L'interrogatorio di garanzia viene fatto nel momento in cui il soggetto viene colpito da ordinanza cautelare e entro cinque giorni il giudice sente la parte alla facoltà di rendere dichiarazioni o di avvalersi dalla facoltà di non rispondere. Per quanto riguarda gli altri è prevista già una linea difensiva? No, diciamo che assisto a un altro soggetto che è colpito da ordine di presentazione alla polizia giudiziaria, ma anche in questo caso credo che la linea difensiva sia la stessa, cioè quella in questa fase di avvalersi dalla facoltà di non rispondere. Quali sono le ipotesi di reato? Contestano cessione di sostanze stupefacenti a terzi, quindi il classico spaccio di sostanze stupefacenti nella zona di Civita Vecchia e litorale. Quando vi presenterete al Tribunale del Riesame qual è la linea difensiva e gli elementi a discolpa che intendete presentare? Sicuramente riteniamo, almeno per le posizioni che assisto, ritengo che non ci siano i presupposti per una misura cautelare così gravosa come quella della detenzione in carcere. Rimettiamo gli atti all'organo, al Tribunale della Libertà, che è comunque organo superiore rispetto al giudice che ha emesso l'ordinanza, proprio per far valutare la mancanza dei presupposti di un'ordinanza e dell'applicazione di una misura così gravosa come quella della detenzione in carcere. Quindi di fatto si punterà o alla scarcerazione o quantomeno a una misura meno restrittiva? All'applicazione di una misura meno restrittiva, sì. All'applicazione di una misura meno restrittiva.